Si susseguono gli eventi a Pescara in questa estate, uno importante in programma il 19 agosto, la notte dello shopping. Assessore, ci sarà anche una gradita novità perché i parcheggi saranno completamente gratuiti. Sì, tanti appuntamenti. Dopo il ferragosto, il 19, arriva Pescara Shopping, un evento dedicato esclusivamente al commercio, alla zona pedonale della città, al nostro centro commerciale naturale, in accordo con tutte le sigle delle associazioni di categoria che ringrazio Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA, daremo la possibilità di in questa giornata di shopping dei parcheggi gratuiti nell'area di Risulta a partire dalle ore 17, organizzeremo dei micro eventi e daremo la possibilità nelle vie di pregio di organizzare degli eventi ai commercianti occupando il suolo in maniera gratuita e anche i diritti siae. È un'occasione buona, in questa estate ricca di appuntamenti, percato per il maltempo che ci ha creato qualche problema per rilanciare quelle che sono le tematiche del commercio. L'incontro di ieri è servito con le associazioni di categoria per programmare anche il futuro e la stagione natalizia. Noi abbiamo messo a disposizione da subito 70.000 euro per le luminarie, porteremo a pescare un grande evento con luci d'artista e saremo la terza città in Italia e poi per il centro commerciale naturale da subito 50.000 euro entro fine anno che incongorderemo la spesa con un intervento immediato con le associazioni di categoria e con le esigenze dei commercianti stessi. È importante, e voi lo state facendo da tempo, fare rete e lavorare in sinergia con le associazioni di categoria? Noi vogliamo lavorare in sinergia con le associazioni di categoria, con i commercianti e con tutti quelli che hanno a cuore il bene, il progresso e il futuro di questa città. Lo stiamo facendo anche con il binomio eventi commercio che significa rilanciare l'attrattività della città stessa. È stata una buona occasione la notte dell'Adriatico, sarà una buona occasione il 15 agosto dove arriverà in città Paola Turci ed Ellen Alien, quindi due eventi di grande rilievo. Il 20 agosto avremo Fiorella Mannoi e poi la Regione ha anticipato oggi che il 4 settembre ci sarà l'apertura dell'Open Day Winter con un concerto straordinario con Goran Bregovic all'Arena del Mare. Insomma una stagione di grandi appuntamenti che vuole rilanciare la funzione attrattiva della città che poi significa incidere sull'assetto economico.